Eccoci di nuovo negli studi bolognesi di TRC, riapriamo il nostro telegiornale parlando di uno spazio che è stato inaugurato questa mattina che si chiama proprio Spazio di Opportunità, un luogo dedicato agli adolescenti del quartiere Borgo Panigale-Reno, lo spazio ospitato dai locali di comune sarà gestito dal consorzio Scooter, la nostra Mariangela Ciavarella con la sua telecamera è andata a curiosare, vediamo. C'è la sala gioco, la biblioteca, lo studio radiofonico e addirittura la ciclofficina. Nel nuovo spazio di opportunità di via Martinelli gli adolescenti del quartiere Borgo Panigale-Reno potranno svolgere attività educative e ricreative in compagnia, imparando a conoscere e a valorizzare le proprie abilità. Lo spazio, gestito dal consorzio Scooter e ospitato dai locali del comune e vanta il contributo di Fondazione Golinelli e Fondazione con i Bambini. All'interno di Spazio Opportunità troviamo anche realtà che ci aiutano nel portare avanti innovazioni tecnologiche e anche scientifiche. Questo caratterizza molto lo spazio perché vogliamo portare avanti proprio una cultura tecnica capace di rispondere in maniera tempestiva ai bisogni dei giovani, soprattutto in collegamento con le scuole. Abbiamo già creato una rete con le associazioni del territorio e di Bologna. La giornata tipo prevede tante diverse attività. Lo spazio è molto grande e ci sono stanze separate che permettono appunto di sviluppare le attività. C'è una sala studio dove i ragazzi possono studiare in silenzio e possono connettersi a internet. Ci sono due computer con cui possono sviluppare anche delle ricerche approfondite. C'è la biblioteca multimediale. Allo stesso tempo c'è un'altra stanza adiacente alla sala studio che è una sala di potenziamento scolastico dove insieme all'associazione APE che è partner del progetto si cerca di sostenere i compiti dei ragazzi che hanno più difficoltà. Tante anche le attività pensate per gli adulti a cui spazio di opportunità dedicherà momenti di formazione e incontri su temi legati all'adolescenza.